Qualcuno viene da giù, no? Ricarico! Copritemi! C'è Yana sul finestra, la schiaccola che fa Yana era sul testo! C'è Yana, Simone! L'ultima Yana è sul testo, non ve l'ha cercata! Lasciate la mamma troppo, non ve la vedete! Le vedete qua! Parane però, più solo! Lasciala, lasciala, lasciala! L'ho visto! Perché vi dovete cercare le kill, vicciotti? Io posso, non è bello! Vabbè, che tanto è solo, dai! Ti ho fatto tutti i polli, dai! Non ve la! Ma, ragazzi, no! Ma, ragazzi, no, mamma mia! Però dai, se l'è fatta, l'importante è questo! Oh, vorrei che basta che si vince, dico le kill, sti cazzi! No, non te la cercare! No, non te la cercare! Non te la cercare! Ti vede prima laia! Lì c'è un buco del nome! Ma cos'è? Che sta peggio con me? Che sta peggio con me? Che sta peggio con me? No, compagno, è un po' di cuore! No, compagno! Che ci ho fatto il cuore! Questa tuiccio! Oh, che c'è la pico! Si, c'è la, c'è uno! No, no! Sei più lento, sei più lento! No, no! No, no! Stai qua nel mira, stai qua nel mira! Vado fuori a... Che trovo? Rai ci vuole per Rai! Ah, ci sta facendo tutto il giro! Cazione! Ah no, ma qua c'è Glazia, attenti No, ma qua c'è Glazia Stella No, che parola da me Asciute scale, oltre No, c'è cazzo che ci sono buttati per me, amici Mi sono andata dietro Potter, Potter, Simone, Potter Vabbè, questo ha preso più la colonna che altro No, nel corno è questo tanto, è brito No No, Simona È il manico dalla scuola Oddio Arrivo Triva, attivate Abbiamo un po' di tempo Cambio caricatore Ecco, bro Stella è più oltre dentro Ah, si la tocchia Anta, non te la cercherai, Anta, non te la cercherai Oh Trovate pure da attraversarla Goditi lo spuntino Dabbi Dabbi Oh Dabbi 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 Abbiamo detto Dabbi 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 Divertiti! Andate a cercare! Grazie! Farò un x su da spazio Guardate il corridoio, ve lo guardo io, rimanete safe Non l'ho visto, non l'ho visto, cazzo, non l'ho visto! Perchè togli ho doccia, sinistra, sinistra Non so, ma è tutto baricato Oh, sce, vedi, vedi, vedi Ci fai idea ma è colpa mia Si Ti vedi un po' da dietro No, 15 secondi Il tempo scade tra 10 secondi Rimangono 5 secondi Sinistra, ho rotto la zami Occhio, perfetto Ho detto, non c'era più Abbiamo rischiato, io non ti occupo Si rischia la giocata e si vince la partita Non c'è, non è ma co- Oh, Tonin2! Eh, lo se l'ho visto Ah, Tonin2, 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 Tonin2 Lo sto pingando, lo sto pingando sul tempo E' sdraiato E' morto L'altro Onyx è invece sull'inforitoio La Tonin2 Hai perso il diritto Audio, non fa audio, audio, audio Raga, non sento un cazzo però Mi buttate voci quando morite Ma che Nomad ti aiuto Ma è Nomad, Dio cane Lancia una pezzo, lancia una pezzo Ok, vai, vai, vai Ah, Zami ha uno di vita, combatto, te lo fai Un operatore alleato è rimasto Qualcuno gli dice che non è nato adesso Hai visto, hai visto Chi è più malato fra quale è quello? Mia nonna Però sono credente, vabbè, ma sti cazzi Ah, sei credente? Scusa, bro Nessuno mi crede Beh, non ti credo Di questa serie che sto facendo Su Youtube, almeno per cambiare un po' Non l'ho mai fatta, non l'ho mai fatta Eh sì, già stanno arrivando Stanno cucendo tutti Glanzano pure Vabbè, guarda tu, guarda la mia ferma Nooo, lui, lo sbagliamo Diana dietro, guardate che mi dire Odio 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 E' una forte, lo apriamo E' il Torn, ma perché è il Torn? Finistra, granata Blast, sede, morta, sede Nel senatore sinistra Un operatore Un operatore Un operatore rimasto Un operatore rimasto Un operatore rimasto C'è un po' C'è un po' che c'è? perfetto l'artiglio è attivo un nuovo caricatore fatto non so schifo ultimo attaccante dov'è l'ultimo non lo so ah è dietro lo scudo è dietro lo scudo pingato ping 1 che abriva di se lo riesce a fare ping 2 aspetta che mica spara a media ma sei andato in obiettivo andateci voi sono qua fermo ti ma la sentite è andata a sinistra ha fatto il giro da dietro non l'ho vista ma non è legumi c'è qualcuno davanti è in fondo però ah c'è qualcuno ah c'è qualcuno ormai c'ha mi dà più da sopra fatto tanto occhio è libero oh è davanti alla finestra Luigi no Luigi no inutile campatimi dov'è aspetta non è più davanti alla finestra non so dove mi stavo droppando da fuori chec'è sensore è attivato ultimo nemico rimasto sta dronando sta dronando ultimo a fuori sta dronando principale principale back arrivo fin di altro dov'è? dov'è essere in questo stanzino qua dentro dov'è? stantino stantino a destra è andato non lo sento più no la prima di set che è il tipo non so come ritorni l'obiettivo minchia chi è triste con me mi guardo tramite stanzione ora mi viene a cercare ma non c'è nessuno per me è qua dov'era un po' dov'era in construction era giusto ero messo io e di là troppo sei bassa io no ma voglio stai facendo i pluspen c'è caito c'è caito c'è caito figa mi sono distratto figa vabbè regala e vi guardi e trova tranquilli la guardia è un drone occhi faccia cavera e bandit avere 3 bandit qua fuori ok ma che è successo lì il full team stava facendo si faceva il full team col monte no io ho visto tutto ho un po smirato ma ok sinistra dietro dietro tanto l'avevo sentito dietro sti cazzo a destra tutta destra c'era cavera a me non è morto io cosa fia smirà chi è sotto a destra minchia sta cavera ha cagato una minchia picciolta assist ok cavera è colpo omba comba no no di cavera non è con noi ho visto il mio dio oh mio dio l'ho detto uno di vita aveva un colpo di chialoso lo faceva si era un bel pompa è legale rega cazzo di becchi di puttane di segno regicaria su r6 così ho messo risposto dove era non lo so ma ho appena tronato merda stavo tronando stavo stavo tronando vita un po vitt che brutta cavera finchia pare a michael jackson pare a buttare la mamma se è andato guarda qua c'è un torno di maledetto vuoi c'è la testa johnny ah no l'ultimo uomo per la squadra un altro sopra droppato arrivano arrivano porta porta non ne hai visto non ne hai visto ne sono morto sono mortissimo mario che culo raga raga non posso capire come ho fatto questo io non posso capire non posso capire non posso capire ragazzi ah voglio fare il fast plant si che lo so mi ce l'ha fatto uno infatti è vicino no non uso un nuovo caricatore no però però sto cartone di merda si deve togliere da questa mano basta turn e thunder e è amaro ebria non ti mettere davanti a me ai dio no raga eravamo 4 v2 io ho piccato dai che siamo morti tutti non ho mai detto che c'era la che da ma non l'ho visto ok che c'è fuori maverick si muove va 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 ultimo nemico rimasto hai ridotto l'imperimento ma c'è le palle operatore alleato rimasto ma rialzatevi vi questo costotterà ti muove male comano le caro gibi cosa hanno visto vabbè simone sei contento di quello che hai fatto buono zitto il meme è tutto sudato allora io vi io come bricio scusate aspetta mi hanno piazzato il mute proprio sopra il posto me l'ha distruggeto un mute come lo distruggo il mute che ne so oh ok fermo ok è distrutto come bricio ora eh ci sono i oh godo godo fortissimo carica speciale alla larga al riparo è innescata sono a secco cambio caricatore la squadra d'attacco ha eliminato i difensori sco 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 primo di nuovo e salva sta clip pega che dai che sono forse patino 1 mi taglio le le la tiro 1 forse vediamo vogliamo la capta superaldo carriati da gineciccio e antonio no guardate la minchia sono che faccio sempre le chi no no Antonio non ce l'ha un soprannuo perché poi vede il nome king non è vero ho visto lui mezzo 49 punti mi ha dato hai visto me la date di 57 io non mi